Il convegno organizzato dal Comune di Terni, Ambiente e Terni facciamo il punto, la parte di questa mattinata, gruppi di lavoro che affrontano le diverse tematiche emerse nella parte plenaria di ieri in cui si sono susseguite una serie di relazioni importanti. Pensiamo che sia un appuntamento decisivo per questa città in cui è stato possibile fare il punto della situazione a 360 gradi sulle reali dinamiche ambientali e sanitarie che legano la città di Terni al territorio provinciale e regionale. È il primo di altri appuntamenti che si susseguiranno nel corso dei mesi, siamo convinti che questa sia la strada giusta per condividere con la città le criticità ambientali e per dare delle risposte concrete a queste tematiche. Da questi due giorni sono emersi molti dati relativi alle matrici ambientali inquinate, molti dati relativi soprattutto a quali siano le cause e il nesso di casualità tra le dinamiche ambientali e quelle sanitarie. Sono emerse situazioni critiche che richiedono agli enti locali un coordinamento e una collaborazione costante per affrontare queste tematiche, ma soprattutto è emersa l'enorme esigenza che le tematiche ambientali vengano condivise con la cittadinanza e con le comunità e che vengano condivise soprattutto utilizzando il metro della velità e della massima partecipazione, sia in fase di analisi che in fase di progettazione di quelle che debbono essere le soluzioni.